Buongiorno, grazie al professor Bortincasa per l'invito, la società sempre, sempre, e Augusto per l'invito davvero. Complimenti per il convegno. Adesso dalla teoria passiamo alla pratica. Cioè, la medicina di precisione, partiamo dal grosso per andare al piccolo. Finora abbiamo visto tante belle relazioni, molto interessanti, mi hanno aperto tante finestre. Le finestre sono rappresentate da meccanismi immunitari. Chiaramente dall'allergologia all'immunologia e alla nutrizione abbiamo veramente ancora tantissimo da scoprire e penso che la verità non ce l'ha nessuno. Io che mi occupo di patologie autoimmuni e di nutrizione fino all'oncologia, io mi occupo di sistema immunitario innato e acquisito. E questi si muovono in tutte le patologie. E chiaramente non c'è un'unica verità in queste malattie infiammatorie croniche, che siano intestinali o fino alla patologia artro-reumatica. Perché purtroppo da noi in studio vengono tantissime persone che hanno problemi vari e forse anche delle miscellanie patologiche. Quindi il problema nostro qual è? È di occuparci di un paziente che ha tanti disturbi, dalla dispepsia alla patologia fibromialgica, ma non c'è una diagnosi ben precisa. A volte ci possono esistere tutte queste condizioni, ma abbiamo una condizione infiammatoria di base. Ora, il sistema immunitario innato è quello che rappresenta poi la carta d'identità del paziente che abbiamo davanti. Qualsiasi esso sia. E l'immunità innata entra in meccanismi di difesa già dalla nascita, è già lì l'impronta che abbiamo, forse dal microbiota. Probabilmente il microbiota partecipa a questo imprimo. Ma andiamo nel pratico. La plasticità del sistema immunitario è quella di condividere informazioni. Le informazioni che abbiamo dall'esterno sono dagli ipopolisaccaridi ambientali, virali. Negli ultimi 15-20 anni stiamo assistendo a un cambiamento ambientale, quindi epigenetico. Il nostro adattamento epigenetico è veramente lungo, difficile, e questo adattamento porterà a condizioni di sviluppo di nuove patologie. E quindi è difficile avere anche una mappa su quello che il nostro sistema immunitario sta cercando di fare. Ma quello che è vero è che l'interleuchine, tra di loro, questo è un complesso schema dove c'è un'interazione, non c'è nulla di statico, ma è tutto in divenire. In questo momento noi abbiamo centinaia di pazienti con patologie autoimmuni, infiammatorie, o patologie autoinfiammatorie, patologie allergiche, ma da istaminismo. Ma abbiamo una disregolazione immunitaria. I CD4, che noi studiamo alla formula lequecitaria, alla tipizzazione linfocitaria, i CD4 e i CD8, negli ultimi tempi sono due tipi di cellule che stanno scomparendo. I CD8 citotossici e i CD4, che dovrebbero difenderci, sono molto bassi. Quindi è interessante come nella medicina di precisione, senza mai dimenticare il nostro paziente, che è un corollario di sintomi a volte, anche confusi, e noi dobbiamo fare proprio dei ricercatori, degli investigatori, su capire cos'è che è il nostro paziente. Avere una formula lequecitaria, una tipizzazione, un dosaggio delle citochine, in quel momento, perché non è una verità assoluta, in quel momento abbiamo una carta di identità sul tipo di infiammazione che sta sviluppando. Ma non solo. Ho la possibilità, ormai abbiamo l'esperienza di dieci anni su questi esami, di dire dove sta andando, se è in patologia autoimmune, in una patologia degenerativa o soltanto infiammatoria. Per quanto riguarda l'infiammazione, conosciamo bene questa struttura, che non esiste, si assembla sotto stimoli, vedete, epigenetici, virali, batterici, si assomma e grazie all'attivazione delle caspasi si attiva una prointerleuchina 1. Tutto questo è un meccanismo genetico. La prointerleuchina 1 diventa interleuchina beta e diventa una citochina altamente infiammatoria. Considerate che questo meccanismo è fisiologico. Grazie a questo meccanismo la donna in gravidanza porterà avanti la sua gravidanza. Quindi avremo un'interleuchina molto alta, ma è quella che ci sta permettendo l'evoluzione. Al contrario, un'interleuchina alta su un soggetto come me, che apparentemente sto bene, ma qualche acciacco perché vado a correre, anche se non mi piace, può essere anche un segnale di un'infiammazione che devo controllare. Ma dipende dal grado di infiammazione, siamo tutti infiammati. Quando questa prointerleuchina 1 beta viene rilasciata poi a livello cellulare, viene rilasciata in circolo, ecco che poi diventa una citochina che incomincerà a crearmi un po' di problemi. Dipende dalla quantità prodotta, dipende dal tempo che continua a produrla e dipende dal tessuto che va a danneggiare e a colpire. Dalle cellule endoteliali, non per ultimo l'alterazione dell'endotelio, l'aggregazione piastrinica e la placca, le patologie muscolari e i monociti, che noi vediamo all'emocromo, i monociti, vediamo una monocitosi nell'infiammazione cronica. Il monocita aumenta, il numero assoluto supera 0,7-0,8. Quando arriva a 0,9 è un monocita che è da tenere in considerazione, forse anche prima. Il monocita si trasforma in macrofago, quando migra nei tessuti, e lì poi si differenzia. Si differenzia grazie a che cosa? A uno stimolo citochinico che l'ha prodotto. Ed è interessante perché queste vie di attivazione cellulare sono individuali, sono molto individuali, quindi anche una genetica probabilmente ci aiuterà a capire qualcosa su questi meccanismi interleuchini. È chiaro che sto parlando di una medicina di precisione altamente precisa. Questa è una freccia ben precisa che va a colpire un bersaglio ben preciso. Mi piace anche pensare che nella medicina di precisione c'è sempre l'essere umano, ricordiamoci. Quindi vi porto un lavoro molto vecchio per dire cose che, sto dicendo cose che non sono nate ieri, sono nate più di 30 anni fa. Abbiamo dei meccanismi cellulari dove l'interleuchina 6, che è la patologia cronica, infiammatoria, è un po' la mamma, ma non per tutti. È un po' la mamma, l'interleuchina 6, opera con la 1 per mantenere un'infiammazione cronica. Dall'altra parte abbiamo anche un meccanismo dove l'A6, a livello del sistema nervoso centrale, permette un meccanismo anti-infiammatorio. Quindi dipende dalla quantità prodotta, dipende dal tessuto che analizziamo. Pazienti con encefalite miagica, neurite ottica, misuriamo l'interleuchina 6 del liquido cerebrospinale e ha valori altissimi. Quindi parliamo di una neuroinfiammazione generata da X, non so, stimoli virali o altre patologie, e abbiamo un livello di interleuchina sia alta. Per noi è un target primario di neurologia che ci inviano il liquor per analizzare questa citochina. È interessante perché andiamo a vedere nel tessuto. Noi la controlliamo anche a livello sistemico. I due dati a volte combaciano. Queste citochine passano, migrano la barriera emetencefalica. Andiamo avanti e non voglio rubarvi tempo, ma preferisco avere tempo per il dibattito, qualche domanda. Questa complicata diapositiva non è altro che una conseguenza di eccesso di produzione di interleuchina 6, però infiammatoria, considerate che un'artrite la produce, uno stato infiammatorio muscolare la produce. I muscoli la producono quando domani mattina andrò a correre, perdonimi lo stress della presentazione di oggi. Vado a correre, produrrà una miochina particolare, che è l'interleuchina 6, che andrà a farmi consumare il grasso depositato nei miei miociti. Quindi è una citochina in quel momento positiva. Giusto? Mi spiego? Non mi sta creando infiammazione, ma se vado a fare una mezza maratona, che già non mi piace, mezza maratona, io produrrò tanta citochina, ma talmente tanta, che se avrò la capacità di contrastarne la produzione, riesco a non avere danni. Ma se non ce l'ho questa capacità di abbassare l'infiammazione e lo stress ossidativo, andrò in conto a un'infiammazione. Poi andrò in conto a un'infiammazione ancora, perché è mercoledì torno, corro. Poi sabato, e così via. Il livello infiammatorio aumenta tantissimo. Quindi è una citochina che cosa fa? In questo caso inibisce la produzione di interferone gamma. Inibisce l'attività dei TH1, linfociti TH1, CD4. Facilita una patologia di tipo autoimmune. Facilita la produzione di interleukina 4. Quindi avrò in conto che cosa? Immunodepressione facilita le infezioni virali e probabilmente il shift verso una patologia allergica, che non è allergica, IgE immediata, che non è da intolleranza, che non è da deficit enzimatico, ma è uno stimolo epigenetico. Non solo, ma shifta verso una produzione di interleukina 17, la A. Ci sono diversi tipi di interleukina 17. La A è quella che facilita una disregolazione dei T-REG. Cosa stiamo asservando negli ultimi anni? Patologie autoimmuni. Patologie della tiroide. Connettiviti. Aumento dell'autoimmunità. Occupandomi da circa 30 anni in tutte le forme. Sono aperto a qualsiasi cosa, fondamentalmente in tutte le forme le vedo. Come questi anni mai. Tiro i diti. E per non parlare del TNF-alfa, che conosciamo bene, non come citochina per il tumore. Il tumore è stato studiato in una linea cellulare tipica. Ma il TNF-alfa distrugge l'endotelio delle coronarie. Tra virgolette distrugge, lo infiamma, lo altera, portandoci a una patologia cardiovascolare. Il TNF-alfa molto spesso è prodotto da cellule intestinali. Molto spesso è prodotto dal fegato. Quindi da un'infiammazione cronica silente. Lo stato infiammatorio cronico silente è quella condizione dove si preparano le basi per manifestare una patologia e andare dallo specialista dopo 10-20 anni. La medicina preventiva, la medicina di precisione, dovrebbe occuparsi del paziente quando è ancora, tra virgolette, sano o apparentemente sano. O apparentemente sano. Quindi il TNF-alfa è un'altra citochina che io misurerei molto volentieri nei pazienti infiammati. nei pazienti che hanno avuto un infarto, nei pazienti che hanno diversi stent. L'interleuchina 12, l'interleuchina 2 sono altre due citochine interessanti dell'immunità innata e non solo, ma sono interessanti perché ci proteggono dall'infiammazione, dalle patologie neoplastiche. Tumori polmonari sono difficitari di interleuchina 12. Tutti i tumori sono deficitari di interleuchina 2 e interferon gamma. E vi sto parlando quindi di un'attività TH1 mediata. Se avete capito qualcosa di quello che ho appena detto, spero di sì, perché non sono stato chiaro se non l'avete capito, è sicuro. Ma se sono riuscito a farmi capire un po', questi TH1 sono coloro che ci difendono e quando la difesa di questo tipo crolla, crollano le barriere, se avete visto il trono di spada, la barriera è importante. Le barriere immunitarie sono determinate da questi. Quando crollano queste barriere, ecco che shiftiamo verso un sistema TH2, TH17, cioè pro-infiammatorio, pro-allergenico, pro-tumorale, pro-autoimmune, TH2. Quindi nei soggetti che poi hanno un problema linfocitario sulla produzione dell'interleuchina 2 che è sotto il controllo della melatonina, dell'interleuchina 12 e dell'interferon gamma, ecco che abbiamo una possibilità, nella prossima la vediamo, di far sì che virus come l'Epstein-Barr, mononucleosi, citomegalo e virus erpetici, ma anche altri virus, anche altre patologie, possono innescarsi e creare attività litica anche dopo tanti anni. L'herpes zoster che vediamo negli ultimi 5 anni. In realtà io lo vedo da 15 anni, dal 2010. Riattivato. Perché studio questi meccanismi. Perché? Perché abbiamo una disregolazione sui T-REG e quindi la disregolazione non fa altro che eliminarci questa difesa naturale. Dobbiamo mantenerla. La medicina di precisione preventiva ci deve far sì che manteniamo questa attività di difesa che è la base della nostra salute. Cioè noi non ci accorgiamo che stiamo bene. Perché stiamo bene? Ci accorgiamo che abbiamo un problema quando c'è un problema che non stiamo più bene. basta un raffreddore. L'infiammazione è chiaramente la mamma della nostra evoluzione. Grazie ad essa ci siamo evoluti. Ma se questa infiammazione diventa cronica, silente, ecco che la produzione delle citochine, ho inserito anche la 8 che è interessante perché è un'attività cellulare, non anticorpale, cellulare, mastocitaria, ecco che l'infiammazione da cronica diventa subclinica ma poi diventa clinica. e dipende dalla genetica individuale che si manifesterà con un sintomo, una patologia, un problema. L'immunosoppressione è sicuramente da non, così da non, io preferisco trattare un eccesso, quindi un eccesso di proteine, perché poi queste citochine sono delle proteine. e preferisco trattare un eccesso che un difetto, perché quando si crea il difetto di difesa immunitaria è un problema, perché ritirarlo su, riprogrammarlo, renderlo ancora fisiologico è più difficile ed è più lungo. Vi parlo da clinico, non da ricercatore, da clinico. Alcuni pazienti che abbiamo visto negli ultimi anni, questo è un long covid, un maschio, con un'attivazione del citomegalovirus, un helispot litico particolarmente alto se vedete i valori di riferimento, questo è il nostro dato di laboratorio dell'interleuchina 8, la 1 beta e l'interferon gamma, guardate la quantità, bassissimo, troviamo sotto 0,5 quando i valori vanno da 4 a 17. Questo è un altro maschio per problemi connettivali, disautonomia del sistema nervoso centrale, interleuchina 8, beta, interferon gamma. Quindi attività litica cellulare, attività di difesa anticorpale è praticamente annullata. Quindi se questa condizione rimane nel tempo, non solo l'autoimmunità, ma altre patologie più importanti possono manifestarsi. Nei pazienti ecologici, oncologici che sono in progressione di malattia, la 8, il Tgf beta e i neutrofili vanno insieme, aumentano. C'è progressione, c'è neutrofilia e perdita del controllo, quindi disregolazione immunitaria e purtroppo siamo incontro a peggioramento. vado verso le ultime diapositive, anche questo è un altro maschio e considerate che l'immunità, l'autoimmunità è femmina, non maschio, è femmina. Su dieci pazienti, sette sono donne. È femmina. Dopo la menopausa incomincia a disregolarsi l'autoimmunità nei soggetti predisposti. Ora, anche qui vedete un interferon gamma molto basso, un'attività dell'interleukina 8 alta. Penso di aver finito. Come le misuriamo? Con la saliva e col siero. Tramite saliva e siero abbiamo già fatto questi studi di comparazione e di validazione della metodica. Sono studi che abbiamo fatto ormai tanti anni fa per validare la metodica. La saliva, ammesso che io ce l'abbia ancora, non ce l'ho più, è circa un litro e mezzo ed è un un ultrafiltrato del plasma. Quindi nella saliva io ritrovo qualsiasi cosa. Dagli ormoni, gli enzimi, le citochine, qualsiasi cosa, dagli anticorpi. La posso misurare tramite un sistema non invasivo e le tre o quattro citochine che io sistematicamente misuro ai miei pazienti che si ruolgono a me per una patologia autoimmune o infiammatoria sono queste. La 1 alfa per capirci è un'allarmina è una citochina allarmina che quando viene allarmina perché l'abbiamo chiamata così perché ti allarma nel senso che ti avvisa che si sta creando un'infiammazione positiva a volte anche positiva. La 1 beta invece quando incomincia ad aumentare è già un qualcosa che siamo andati oltre casa siamo già usciti dalla cellula e poi coinvolge la 6 il TNF alfa a volte prima il TNF alfa poi la 6 quando la citochina 6 è alta e nei soggetti long covid e nei soggetti noi abbiamo misurato durante il covid tutti i pazienti con il covid li abbiamo misurati considerato un valore di citochina 7 come massimo la 6 era 25 35 e il rapporto neutrofili linfociti altamente sballato linfociti monociti completamente soppresso ossia monociti 1 e 8 linfociti 06 e 04 con un rapporto di questo tipo c'è la morte d'accordo c'è la morte l'interleukina 6 a 35 coagulazione intravasale trombosi ictus infarto di quello che abbiamo visto quindi misurare queste citochine in un soggetto abbiamo imparato purtroppo a spese di qualcuno queste informazioni traiamone un vantaggio il vantaggio è di utilizzare una metodica semplice molto ben precisa nella medicina di precisione se vogliamo farla veramente è una cosa semplice non è difficile è difficile poi applicare il dato chiaramente il dato è clinico va dall'esperienza ma non è impossibile come leggere un emocromo o un dato sul sangue io vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti